Vista perché io ho una domanda proprio riguardo al loro live Bill, i tuoi vestiti che usi durante il live sono famosi ormai quanto la tua musica E io ho scoperto una cosa, che gli disegni proprio tu Bill, i tuoi vestiti che ti porti durante il live show sono famosi come la tua musica È vero che ti porti? Io l'ho fatto per l'ultimo tour Ma per questo tour ho lavorato con Dan e Dean di Dsquared E' stato veramente bello perché ho detto loro cosa volevo avere E loro avevano grandi idee per arrangere tutto E io ero inspiraato dal tutto il record e dal Stato Quindi volevo sembrare umanoide E' stato davvero divertente fare questo E ho davvero piaciuto fare le vestiti con loro insieme E' stato davvero divertente Eh sì, praticamente i vestiti li ha pensati lui insieme ad uno stilista E è stato molto piaciuto fare questo lavoro Spero di farlo ancora Ma soprattutto ha detto che è stato ispirato dal concetto di umanoide Ovvero un uomo robot Ed è per questo che tutto quanto live e vestiti sono così futuristici E noi ci vediamo Un estratto del loro DVD live Umanoide City live In particolare ci vediamo Il pezzo Shining Grazie mille 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 Grazie mille